La nostra qualità offensiva non è che sia migliorata nell'arco della partita. Loro hanno preparato delle situazioni che oltretutto noi un po' ci aspettavamo anche, le abbiamo lette abbastanza male. Fortunatamente nel secondo tempo siamo riusciti ad alzare un pochettino la pressione sulla palla. Abbiamo cominciato a limitare dei giocatori che nel primo tempo erano stati veramente incredibili, nel senso che Alessandri e Gatti avevano fatto veramente una partita strepitosa. E poi pian piano siamo riusciti a curare un po' quei dettagli di cui parliamo anche Furio, che chiaramente in una partita come questa, dove alla fine il contatto tra le due squadre c'è stato per quasi tutti e 40 minuti, sono determinanti. E come credo che saranno determinanti anche nelle prossime. Chi sarà più bravo a curare i piccoli particolari probabilmente riuscirà a livello di economia di gioco a raccogliere un pochettino di più. Mi dispiace ripetere come ha detto Furio, però io la penso abbastanza come lui. Questa è una partita dove veramente la tensione c'era intanto per tutte e due e probabilmente per la squadra di casa ce n'era ancora di più. Quindi l'essere tesi ti può anche portare a non essere lucido. E noi probabilmente non abbiamo capito come attaccare le loro situazioni di zona, non abbiamo capito come attaccare e soprattutto dove attaccare. Quando loro comunque anche quando stavano a uomo riempivano tanto certi spazi piuttosto che da altri. E quindi quando sembrava che avessimo trovato il bandolo per riuscire a batterli uno contro uno, invece ci siamo un po' incaponiti nel palleggiare parecchio e invece oggi probabilmente serviva qualcos'altro piuttosto che lavorare tanto dal palleggio. Però adesso faremo tesoro degli errori fatti oggi cercando di non ripeterli martedì perché chiaramente ci saranno alcune cose da mettere a posto sia per noi che per loro. E credo che alla fine ai ragazzi potrebbe anche esserci una partita completamente diversa tatticamente rispetto a quella di oggi. Quindi aspettiamoci il nulla e il tutto il contrario di tutto. La capacità nostra deve essere quella di capire al momento quello che serve quel giorno. Sicuramente l'esclusione dalla partita di Vicchio ci ha creato parecchi problemi. Perché comunque abbiamo dovuto ridurre al minimo le rotazioni. E chiaramente questa cosa l'abbiamo parzialmente pagata quando loro giocavano col doppio quattro diciamo tra virgolette. Perché Micevic come avete visto ha avuto parecchi tiri aperti. Sì quel canestro probabilmente ha chiuso un po' la partita perché ci ha permesso di andare a più 5 se non sbaglio. Ma soprattutto ha coronato un modo di attaccare che anche precedentemente eravamo riusciti a costruire dei tiri abbastanza aperti da quelle zone del campo. E però non eravamo mai riusciti a fare canestro. Per cui probabilmente quel tiro non lo so è stato un po' una liberazione per aver trovato il punto giusto come dicevo prima dove attaccarli. Perché comunque loro sono stati molto bravi a chiudere. Sono una squadra molto grossa fisicamente. Quindi chiudono molto bene certi spazi di gioco. E oggi ci siamo un po' incapuniti invece di andare a cercare spazio dove spazio non c'era.